Benvenuti in un nuovo video e raga questa volta andremo a scartare insieme una super mega mystery box Allora raga ho preso tutto da il panificio buoni dentro Allora ovviamente non è una collaborazione assolutamente no perché mi viene messo Ma ho pagato tutto io come tutti i miei video Allora raga praticamente ho acquistato una mystery box dal valore di 90 euro E io ho pagato solo 50 euro per 70-65-70 snack americani Quindi raga può sembrare tanto però io che ho acquistato tante box vi posso dire che 50 euro non è niente Ovviamente non so se ci saranno vari episodi quindi sarà la parte 1 e la parte 2 Che comunque 60-70 snack Non so poi sapete che io no se la ci dobbiamo Tantissimo quindi va un po' così ve la faccio vedere Molto carina E raga è piccola ma vi posso assicurare che è super super pesante E che dire iniziamo Iniziamo Cortello alla mano Dov'è? Via Ok Cerchiamo di non guardare No infatti Peschiamo Ma raga io ho paura Raga spero di non aver tre Oddio quant'ora voglio fare Perché stessi amicacchiorole iniziamo Cioè raga Io devo fare una paronomica Aspettate No infatti Ok vai Pesco io dalla cosa più grande Ovviamente raga poi vedrete i vari video Cioè io non so molto che cavolo sia Bella Bella Smarties E poi ci sono dei panchetti Un po' specialmente Smarties comunque raga Andiamo avanti Questo Zebra Della lotus Io provai l'altro Non questo qua Quindi ci saranno anche vari video assaggi Quindi Preparatevi Speriamo di riuscire a fare tutto in un video Poi Glickers crystal Raga mai provato? Ma no Adoro Mi dispiace Non vorrei guardare Ma dobbiamo guardare per forza Ma c'è un po' Questi qui Ne prendo due Perché ne sono due Ce ne sono tre Anzi tre Neanche questi Che sono i knoppers Knoppers Non so Sono tipo Con il latte C'è una cosa Questi qua Biscotto Ricciola Proveremo Ci lasciamo Alla fine Ce ne sta anche un altro Quindi ce ne sono quattro Ce ne è anche un altro Di sneakers Di sneakers Poi Questo che cos'è Ma che era Una spugna No Knabber Ma non lezzo a me Riva questa roba Sì Beh poi Cialde con i percorante Bene Prima dei bimbi No Sapete cosa sembra Secondo me Zucchero di lato Questo Mamma mia Già è uscito Sì sì Già sarà scego Quindi già sapete Mamma mia Ci verrebbe sotto al video Un emotico Commentato con l'emotico De Donuts Se l'avete visto Tini Donuts Pistacchio Eccolo qua Questi L'abbiamo provato Anche questa L'abbiamo già provata Barretta Eminence Per le nostre seratine Questo è uguale all'altro L'abbiamo provata Sì Un mullo di taglia Guarda cosa c'è No vabbè Un duplo bianco È un duplo Dark E vaniglia Questo è l'uomo L'abbiamo provato Mamma mia No ma cosa è C'è rimasto Ancora sto coso qua Vediamo Veloce Poi Vado io Che prendo questi Dai ci serve Salata ma secondo me No Cremings Guarda tu sei più brava Ma questo è quello la del Cosa a cocco Ah Cremings Ok anche quello Spongies Ragazzi Ne sono due Queste non vedo l'ora di provarle Comunque Poi Anuta Oh questo è nuovo Brown style Un altro di questo Anuta Che cos'hai da vedere Questo qua Ok C'è Tutti schicazzi C'è Mettere Un altro Perché Ne sono Un altro Di quello là Poi raga Prendo tutti Lecca a lecca Che ci sono Non mi vorrei Sponerare la box Ma devo Sono questi qua A fragola Che li darò A tutti i bimbi Li conserverò C'è questa Che non ho mai visto Breakway Della Nessere Non so se si vede Uh uh Bevanda Ma perché Non c'è qualcosa Di salato Se non mi sarà Tutto dolce L'ho visto Allora Allora Questa qui È al limone Melone E crema Melone E crema Schifo Comunque raga Questa qui Della ciuppa ciuppa Io non so Se si vedono bene I prodotti Sì Anche io Non ho visto C'è un altro Che lo viene bene Un altro di questo Qui Che provengo Insieme Questo è un caramele Della Cadbury Queste sono buone Queste qua Sì Ormai Vanno sparate Poi Stessa Allora Se volete Vedendo Sto scrittando Crunchy bits Questi qua Della Knopper Ragazzi Non so Però almeno Che siamo Buoni Si sapeva Che c'era Non so Quanto Che c'era Pezzi Infatti Ragazzi Ne sono Altri Dopo che Questi Se lo voglio Contati Questi qua Poi Vai Prendi Quello Uh Questa qui È l'altra Variante Eccoli Questo L'abbiamo provato Questo Mi ricordo Che sono Trigious Sì L'abbiamo provato Non ricordo Poi Kit Kat Un altro Hanuta Brownie Fateci sapere Se vi piacciono Queste cose Non lo so Perché Ne stiamo Lo stiamo Facendo Molto Come se Non lo so Speriamo Bene Che vi Può Piacere Questo Un altro Brickway Ma giusto Per passare Un po' Di testi Cioè Fa Fru Dillo tu Fudge Della Cadbury Sono tipo Dei Caramello Sì Caramello Sicuramente Allora Permi tutti Ma non puoi capire cosa ci sta Scream No Questi non mi piace Io penso sia una caramello Sono quelle cose Carino Sì Carino Sì Non le mi dico Sneakers 3-1 E Non dobbiamo Sbagliare A sbagliare Lind Eccolo qua Col cuore rosso Bello Bello Rossana Che a me non piace Proveri Crema spalmabile Al cioccolato Questa Questa non l'ho mai vista No Neanche Sì L'ho vista Un altro Anuta Però questo È Normale Al minuto Allora Ma questi speravo Lo sai Perché li volevo Tanto 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 Provare No C'è L'ovetta Denta Ma Allora Io questi Già L'ho Provati E lo sai Se non mi sbagli Erano buoni Quando provai Tutti Lion Vabbè Comunque Lo riproveremo Perché io Non mi ricordo E questo Qui Lion All'interno L'ovetta Poi Sai Questa speravo Da parte La volevo provare Ma che sosse La volevo provare È tipo una caramella Che si arrotola Non già ci sia Povero No Non c'era Qua Non volevamo noi Non c'era Non c'era Sta Vaniglia Questo lo proveremo Nel prossimo video Assaggio insieme Ma solo tu Perché fragola A me No Questo Secondo me Sono sempre Quelle di Twin Sono quelli di Teno Tiny Tiny Penso Si sia Che sono Ce ne sta Nato Ragazzi Lion Un altro Allora Qualcosa di salato C'è Le Pringles Originali E le Pringles Texas BBQ Yeah Vedere Questo Si Questo È tutto Caramella Penso Allora Questo Per me È un grande Vestorio Subliminale Perché Devo fare Una cosa Ancora Non l'ho Fatta Ma la Vede La Sì Hai detto Mumity A fare Questa Così Mi ha detto Mumity Questa Io la volevo Tanto provare Una Monster Espresso Con il Caffèo Quindi Questa Sembra Una Bella Bossa Proprio Per quello Che studi Tu Ti piace Cioè Siamo Finita Siamo Arrivati Quasi Alla Fine Siamo Arrivati Quasi Alla Fine Della Box Vai Allora Direi Prima di Toglierci Tutte Ste Cose Allora Ragazzi Ci sono Un Botto Di Bonti Questo Che cos'è Questo È sempre Quello Di Ah Sì Guarda Questi La Vicky Milk Devo provare Perché Mi hai sempre Dissuto Che era Buona Nella Qua Cos'altro Lui Cos'è Della Master No Della Mastasers Mamma mia Sono Facci Ragazzi Ci stanno Un Botto Di Questi Cosi Lo sai Che mi Ricorda Il calendario Di Federico Fashion Style Oddio Ma Così Non lo so Ragazzi Ci sta Un Altro Nion Vai Vai Tesca Apri Ma io Non Vicky Tesca Non Aspetta Ma Questi li Abbiamo Vinti No 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 Proviamo I Twix Mamma mia Eccoli Eccoli Penso Questa Sia La gioia Proprio Del pacco Sono Tipo Dei Prezzel Ricoperti Di Cioccolato Bianco Ad uno Spero Siano Volvi Per le nostre Serate Non c'era Questo Ma I Sono Finiti Eh Sì Vabbè Poi Facciamo Vedere Che Cos'è La Milka Mi Ci Devo stare Una cosa che devo fare Dark milk Dark milk Quindi il cioccolato fondente Poi raga Qui dentro c'è un Twix Al Twix No scusatemi Kit Kat Arancianci Al burro D'aranthi Qui raga Altri Cavoletti E uno Sneakers Di nuovo Oh lo sneaker Perché non c'era prima Ah era lo sneaker Sì 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 Allora Allora raga Alla fine Ma è un po' Di conclusione Può avere un valore Di 90 euro Questa box Sì sì 50 euro Più che 50 euro Sinceramente Va più che bene Anche perché C'è da considerare Che tipo i donuts Non c'è la confezione Di ogni donut Quindi Sono comunque I pacchetti Quindi Secondo me Ci sta Ovviamente Mi sarei aspettata Anche qualcosina Di salato Avrei Forse io Se avessi fatto io Le box Ovviamente Avrei messo Qualche pezzo In meno di dolce Visto che ci sono Comunque Della No per Molti Sei pezzi Dell'altro Sei sette Cioè Avrei diminuito I pezzi di dolci Farlo più baregato Farlo più baregato Avrei messo pure Un altro pacchetto Di Pringles Un altro gusto Sì Sempre ovviamente Però alla fine Dai ci sta Ma bene Noi speriamo Che comunque Questa box Vi sia piaciuta Diteci Cosa Dateci Qualcosa Quello che volete Questi sono sempre Video ovviamente Da intrattenere Alla fine Noi Ci divertiamo Noi Possiamo Eh niente Dai Io sono alla fine Sono rimasta soddisfatta Ci saranno vari prodotti Che vedrete Nei nostri video Recensione Dove lì proprio Ci divertiremo Ancora di più Qualcuno magari In qualche G Ma Di sicuro E niente Speriamo che questo video Vi sia piaciuto E noi ci vediamo Nel prossimo video Ciao